Ora, è ovvio, siamo d'accordo tutti, l'autonomia non deve essere un percorso se non quello di dare delle misure di efficienza e di responsabilità ai territori. Spacca Italia, cittadini A e serie B. Signori, probabilmente esistono cittadini serie A e cittadini serie B quando i cittadini non hanno ricevuto i servizi perché vi è stata una mala gestione della cosa pubblica. Questo è creare cittadini A e cittadini serie B di fronte alle disfunzioni di una macchina amministrativa o di una macchina politica. Questo deve essere superato. Allora, se vi sono delle disparità, queste non derivano dal regionalismo differenziato perché fino a prova contraria non c'è ancora. Quindi se sono nate, sono nate da cosa? Io mi pongo la domanda. Ecco, da questa risposta ne richiamiamo che non è la causa del regionalismo differenziato, è nato da qualcos'altro. Quindi, squadra che perde, signori, si cambia. Signor, sono mesi che lavoro sui testi e sulle proposte delle regioni che stanno facendo trattative e oggi è nato il dibattito. Io speravo che anche il dibattito nascesse anche prima perché bisogna affrontarlo e bisogna trovare e risolvere anche delle perplessità oppure aggiungere anche delle questioni che possono anche migliorare quello che è un percorso. Io sono certa che con un sano confronto e basandosi su questioni vere, cioè parliamoci di cose vere, i fabbisogni standard, io sono brava, ma mica invitati io, cioè nascono sulla legge la 42, sono già applicati, sono già studiati, c'è già un percorso sui fabbisogni standard, semplicemente diciamo le applichiamo anche alle regioni. È importante chiudere bene, anche io sono d'accordo. La questione del regionalismo differenziato, come ho detto prima, non è una questione di bandiera, è una soluzione istituzionale. Ora, se c'è bisogno di convincere qualcuno e per convincere qualcuno della bontà di un percorso ci occorre un giorno in più che si affronti pure al giorno in più. Non è questo, non deve essere un argomento né strumentalizzato né in versione elettorale, né in versione di antagonismo eventuale e che io contesto che non esiste fra una dialettica nord-sud, ma deve essere veramente un'opportunità. Studiamola bene che veramente possiamo avere un bel riscontro. Io sono ben lieta di ricevere quel giorno lì, io ricevo solo il governatore, il presidente De Luca. È un'opportunità anche per la campagna. Il governatore, io sono certo, nel momento in cui ci confronteremo, supererà anche delle eventuali perplessità. È ovvio che potrebbe essere che la situazione attuale è una situazione che sicuramente avrà bisogno di essere superata. Ma lo stesso presidente De Luca, che è persona abile, che è persona strutturata, che è una persona che sa fare il suo mestiere, dovrà affrontare le problematiche che riguardano la sua regione, e questo è l'interno. Ovviamente lo Stato non potrà che mettere a disposizione tutti i rimedi, quelli più importanti e che possono essere a disposizione. Grazie a tutti.